In seguito ad un focolaio che ha superato il centinaio di casi di dengue a Fano, si è registrato anche il primo episodio di contagio a Pesaro. Si tratta di una persona ricoverata in medicina dallo scorso 28 settembre, giorno d'inizio dei sintomi. Un caso sul quale sono tuttora in corso accertamenti, ma che porta il Comune a disporre il suo primo intervento di disinfestazione larvicida dopo quelli già effettuati a tappeto nel territorio fanese. Aspes provvederà questa notte fra le 3 e le 4.30 del 5 ottobre ad un intervento di disinfestazione adulticida per un raggio di 300 metri riconducibile alla zona mare e porto di Pesaro. In particolare l'area di disinfestazione riguarderà via Malfi, via Legorizia, via Le Battisti, via Calata Duilio, via della Sanità, via Genova, via Grado, via Monfalcone, via Le Napoli, via Paterni, via Pisa, via Renzoni, strada tra due porti, via Le Trento e via Le Trieste. Come da prassi, per precauzione si suggerisce di tenere finestre chiuse, animali domestici in casa e non sostare nelle aree durante il trattamento. Dentro questo perimetro i cittadini dovranno adottare le opportune misure volte a evitare possibili punture di zanzara tigre ed evitare anche la proliferazione della zanzara come la creazione di ristagni d'acqua. Faremo una disinfestazione per un raggio di circa 300 metri rispetto al punto dove abita la persona che è stata colpita. Una cosa positiva, comunque la persona al momento sta bene e voglio anche ricordare ai cittadini che dalla prossima settimana la zona che è stata prevista per la pulizia delle caritorie sarà proprio la zona di via Le Napoli, di via Cesare Battisti, cioè della zona del mare, in maniera tale da poter riuscire a garantire anche una maggiore sicurezza, maggiore pulizia anche per quanto riguarda il tema delle zanzare. L'aggiornamento dell'azienda sanitaria territoriale Frafane ed Intorni registra ad oggi 115 casi di dengue diagnosticati ai quali se ne aggiungono 21 in via d'accertamento. I ricoveri nelle strutture ospedaliere sono scesi dai 6 di ieri ai 4 di oggi, di cui 2 accertati e 2 in attesa di conferma, così come la curva di incidenza continua ad avere un andamento discendente con gli ultimi due casi diagnosticati che risalgono al 29 settembre. Allo stesso modo gli accertamenti eseguiti sulle zanzare catturate dalle trappole non hanno evidenziato la presenza del virus.